Priolo colpevole di furto, 28enne condannato a due anni di reclusione, multa di 900 euro spedito ai domiciliari. I carabinieri della stazione di Priolo hanno arrestato un uomo di 28 anni in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce poiché riconosciuto colpevole di furto commesso nel 2014 in quella provincia pugliese, soggetto condannato a due anni di reclusione e 900 euro di multa dopo le formalità di rito è stato posto ai domiciliari presso la sua abitazione come disposto dall'autorità giudiziaria.